Ricordo ancora quella trasmissione bellissima Ring, efficace, dove le famiglie si sono confrontate con le istituzioni sul tema. Ed è proprio da quella trasmissione che è partita tutta questa campagna di sensibilizzazione sul tema. Ring e Telequattro hanno ottenuto un altro ottimo risultato, portando all'attenzione della gente una problematica inerente all'istruzione, per cui in questi giorni sono arrivati i risultati sperati. Come può interessarmi un'offerta al lavoro in qualsiasi tipo di posto se io non ho un posto in terza? Se io non finisco la scuola non posso andare a lavorare. Diritto allo studio garantito infatti per gli studenti del Volta, il tutto grazie al lavoro congiunto fra i genitori ed i presidenti dei consigli ed istituto, che hanno lavorato in maniera compatta per garantire a tutti gli iscritti l'indirizzo desiderato. Siamo partiti a maggio per arrivare poi solamente ad agosto ad avere la conferma che le classi che noi avevamo richiesto, in qualche modo anche articolate fra i diversi indirizzi che il nostro istituto ha, venissero assolutamente garantite. Così è stata la possibilità per i nostri figli di studiare quello che loro avevano scelto, insomma, è una grande vittoria. Viene garantito sia per le classi secondi, in alcuni casi l'articolazione, in modo che già i ragazzi possano avvicinarsi a quello che è l'indirizzo che loro hanno scelto, e poi invece per quanto riguarda le classi terze, dove invece la specializzazione è più significativa, più forte, è stato garantito per tutte le classi che noi abbiamo richiesto, a parte una per la quale poi i numeri purtroppo erano molto piccoli. La soddisfazione maggiore, oltre all'ottenimento di ciò che era stato richiesto nei mesi scorsi, è anche dato da quell'unità di intenti che indica come il lavoro congiunto porti sviluppi positivi. Il coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto ha fatto un ottimo lavoro per cercare di tirare le fila e muovere in maniera compatta tutto il gruppo di famiglie che erano oggetto di questo ricatto allo studio, perché di questo poi si trattava, o studi qui oppure arrangati. Per fortuna siamo riusciti nell'obiettivo e questa unità ha prodotto questo risultato. Se non ci fosse stato Tele4 avremmo avuto sicuramente un percorso ancora più difficile dall'esito sicuramente incerto.